Salve a tutti qua da Fabio, oggi c'è un nuovo video sbarbato, prima di cominciare a fare i video sbarbato lo sponsorito da un canale di youtube che si chiama Eros Rasatora Tradizionale, una grande persona, un grande amico e ancora, lascio il link in descrizione. Oggi usiamo il gel per barba della cella rossa. Per morbilla ci può stare. Come la solita stavate usiamo la mia cura 34 chd armatore Gillette King. A due pezzi. Questa è finita. Tanto sono andato il pacchetto e mi si guardano altri 10. A due pezzi. Sempre da prendere nel lato che non taglia. Nei due latti. Qua e qua taglia. Poi prendi questa qua. Così. Fai così. Come sapone usiamo il palmolive. live. Mettiamo la ciotola da raso. E come pennello facciamo il... Uso quello dell'unboxing di Yegi. Che mi hanno arrivato in qualche riva. Giù fu in metà e in cavallo. Mi manco in legno. Mi raccomando quando non mettete... 45 minuti in ammollo. Però non dovete toccare qua. Con l'acqua perché si rovina... Si rovina. Si rovina. E potete... Ho chiesto potete fare i movimenti... Circolari. E' movilissimo in effetti... E' mobilissimo in effetti. 3 tasso e queste sono giovani wow perfetto è wow, è veramente wow questa pennella, Mercury 34C HD armato con la Gillette King con la Gillette King Grazie. 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 Wow. Grazie. 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 Ok, tocchino. Grazie. Sì facciamo mettiamo un pochino di pazzamo un bel uso qua pochi poco intanto che agisce un attimo il balsamo paghiamo e prenderlo veramente una carenze in viso non c'è bisogno di attivarlo ogni utilizzo che fate lasciate per 4-5 minuti sotto l'acqua raccomando non troppo acqua perché so becca anche il mando che ne radica il legno si rovina quindi dovete stare attento a quello beh il pennello è veramente ottimo oggi come ragazzo abbiamo usato i mac 34c hd con le Gillette King hanno togliato la mente bene dall'altro ieri non l'ho fatta l'altro ieri l'ho fatta quindi è abbastanza morbido è abbastanza corta la barba io preferisco fare così adesso vedo che mi irrito molto meglio meno scusa adesso da un esempio non la faccio domani la faccio domenica adesso ci mettiamo a fattere i denimi musca cazzo il denimi è un grande occupato secondo me fate in conto che sono pennelli di riva sono di alta qualità è molto alta qualità ricomando di iscrivervi al canale di eros canale di iscriviti se il video vi è piaciuto iscriviti al canale attivate la campanella e commentate lasciate un like tutto da fabio una buona giornata e una buona sbarbata a tutti voi